Realizzare l'area cargo all'aeroporto di Comiso è un progetto prioritario, lo ha affermato il presidente della regione siciliana Renato Schifani al termine ieri di una riunione operativa all'aeroporto più alla torre di Comiso, una strategia che il mio governo continua a schifani, porterà avanti con decisione facendo sistema con il Comune e la SAC, Società di Gestione dello Scalo. Prendiamo atto dei progetti in corso, un punto di partenza per progettare e realizzare un'implementazione che ci consenta di puntare con decisione sul settore cargo a supporto della crescita dell'economia agroalimentare del territorio ibleo. Presenti ieri anche il sindaco del centro ibleo Maria Rita Schembari, il deputato regionale Giorgio Assenza, il primo cittadino di Ispica e Innocenzo Leontini, il responsabile dello Scalo Rosario Di Bernardo, l'ingegnere Nunzio Micelli dell'ufficio tecnico del Comune di Comiso. Sono venuto a Comiso, conclude il governatore, a confrontarmi direttamente con il territorio. Questo è un obiettivo che tutti insieme dobbiamo raggiungere. La regione farà la sua parte con enti locali e SAC serve a fare gioco di squadra, aggiunto inoltre Schifani. L'impegno che manterrò è quello di trasformare, anzi, implementare l'aeroporto di Comiso da passeggeri ed anche a grande trasporto merci con i cargo. Ho approfittato di questa mia permanenza qui, mi regherò tra poco a Vittoria per una gara dell'emergenza e poi vedrò alcune zone agricole danneggiate, per fermarmi in aeroporto, almeno più di un'ora, una riunione utile per capire personalmente quale fosse lo stato dell'arte. Ho preso con piacere che esiste un progetto già appaltato per la trasformazione dell'aeroporto in area commerciale che comunque non contempla i cargo. Lavoreremo, faremo una riunione a breve a Palazzo d'Orleanse dove convocherò le parti, per sviluppare due temi, la continuità territoriale recuperando le finanze dell'emendamento Minardo e nello stesso tempo fare sistema tra SAC, Comune e Regione per fare in modo che la progettualità di massima dell'aeroporto con il cargo possa essere definita e passare poi dal progetto di massima a progetti esecutivi. La Regione è pronta a fare la sua parte e credo che sia essenziale per questa zona strategica dare a tutta la produttività agricola del comparto la possibilità di esportare i propri prodotti in tutte le parti del mondo e questo è un nostro impegno. A mettere però i puntini sulle IE il deputato del PD, Nello Di Pasquale, che ricorda come il progetto cargo sia stato già avviato nel 2018 dall'opposizione. Si tratta di un percorso già in movimento, non si parte da zero, aggiunge Di Pasquale, e sono contento che Schifani voglia proseguirlo. Non si dimentichi tuttavia che solo grazie a un emendamento della minoranza alla finanziaria del 2018 è stato possibile muovere il primo passo con lo stanziamento di oltre un milione di euro. Al presidente Schifani dunque, chiedo, conclude Di Pasquale, un maggiore coinvolgimento della minoranza e di tutti gli attori che hanno permesso l'avvio di questo percorso. Sono 90 migranti sbracati ieri dalla motovedetta Montecimone nella Guardia di Finanza ed erano arrivati tutti il 19 febbraio a Lampedusa. Si tratta di 86 adulti maschi, due donne e due minori per la maggior parte provenienti da Egitto e Costa d'Avorio. Ieri le visite di controllo che hanno riportato buone condizioni di salute dal punto di vista medico. Altri 50 migranti sono arrivati sempre ieri a Pozzalli in Pullman e 19 di questi sono risultati minori non accompagnati. Questa è la situazione attualmente a Pozzallo, mentre gli sbarchi nelle ultime ore in tutta la Sicilia sono molti di più. Sena tanti intercettati nella sola giornata di domenica che avevano a bordo 250 persone e purtroppo anche un cadavere. Il tutto mentre la struttura di contenimento di Lampedusa risulta già stracolma nonostante i trasferimenti fatti, con al momento 1.769 persone. Per tale ragione si è deciso di trasferire a 187 migranti a Crotone, mentre 90, come accennato a Pozzallo, altri 183 sono stati imbarcati sulla nave Galaxy con destinazione Porta Empedocle. Sempre domenica scorsa anche la visita del capo del Dipartimento di Libertà Civile e l'Immigrazione, Valerio Valenti, assieme al prefetto e al questore di Agrigento. Si è quindi stabilito di smistare gli ospiti dell'hot spot di Lampedusa, che potrebbe contenere al massimo 400 persone, in altri centri di prima accoglienza. Tutto questo quando solamente quattro giorni fa, a largo sempre di Lampedusa, nei pressi dell'isolotto Lampione, è stato ritrovato il corpo, decapitato di un migrante, in avanzato stato di ricomposizione appartenente a un uomo, non escluso, secondo le fiamme gialle, che possa essere una delle vittime degli ultimi naufragi avvenuti nelle acque antistanti il canale di Sicilia. I carabinieri del RIS faranno ritorno a casa di Peppe Lucifora per andare alla ricerca di nuove tracce biologiche e quindi di nuovi elementi. A stabilirlo ieri la Corte nel corso dell'udienza istruttoria della Corte d'Assise di Catania. La macchina giudiziaria quindi procede il suo lavoro per cercare di far luce sulla morte del cuoco modicano avvenuta il 10 novembre del 2019, che è stato strangolato e poi ritrovato in casa in camera da letto. Il processo è a carico di Davide Corallo, che di primo grado è stato assolto lo scorso anno per non aver commesso il fatto. Corallo si è sempre dichiarato innocente. Adesso i RIS hanno ricevuto l'incarico di andare nuovamente alla ricerca di elementi utili alla comparazione con quelli già raccolti e acquisiti. L'accesso nell'abitazione e quindi il sopralluogo si svolgerà l'8 marzo, a distanza tra l'altro di pochi mesi dal precedente. A maggio è poi previsto, e precisamente il 17, l'intervento in aula del Maggiore Cesare Rapone, che è stato ora incaricato di eseguire proprio un nuovo sopralluogo. L'amministrazione attuale si è completamente dimenticata dell'esistenza della frazione di pedalino, oppure non gli è mai importato nulla. A dirlo lamentando proprio grossi disagi da parte della comunità che abita a pedalino, il segretario cittadino Gaetano Scollo del PD di Comiso, che scrive in una nota che piange il cuore a girare per le strade di pedalino e a cogliere più o meno vistosamente lo stato di degradante abbandono. A puntare il dito quindi contro l'amministrazione Schembari relativamente alla situazione relativa alla frazione, il PD. La pazienza, dichiarano dal partito, che ormai si è persa e con essa si è pure persa la fiducia verso questa amministrazione, che negli ultimi quattro anni e mezzo è stata latitante, sorda ai problemi, che di volta in volta la comunità gli ha sottoposto, con promesse e sorrisi, ma poi nulla nella sostanza. Nella scuola dell'infanzia a Santa Maria Goretti la situazione è imbarazzante, c'è muffa in diversi ambienti, con la cisterna dell'acqua, in condizioni igienico-sanitarie non ottimali. Dopo diverse reiterate sollecitazioni da parte persino dei genitori, soltanto adesso, ma forse perché siamo vicini alle elezioni, si sta provvedendo alla sostituzione di diverse vetrate, pericolose per l'incolumità proprio dei bambini. In piazza Gramsci la fontana senza acqua è abbandonata a se stessa da quasi cinque anni, l'illuminazione pubblica è poi fatiscente. Il PD, insomma, si fa portavoce di un malcontento diffuso e generale, denunciando l'incuria persino della via Serafino-Amabile-Guastella e della strada interna che collega Contrada-Bosco-Cicogne. Tutto ciò scrivono, nonostante già nella precedente amministrazione era stata approvata in Consiglio Comunale una cessione volontaria per programmare delle somme necessarie per aprire la nuova arteria che permetterebbe di collegare al resto della frazione una delle nuove zone di espansione. Pieni di amarezza, denunciamo, concludono anche l'assenza della Polizia Municipale nella frazione. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, interviene a causa dei lavori di installazione della fibra ottica in città, diffidando l'impresa incaricata ad eseguire i lavori e a completare gli interventi. Solo una volta è riportato però il manto stradale in perfette condizioni e quindi senza buche o dislivelli. A pochi mesi, infatti, dalla partenza di questi lavori, sono tante le lamentele nate in città e che riguardano molte zone. E sono tanti pozzalesi ad effettuare segnalazioni al comune per scavi, il cui poi ripristino sul manto stradale viene fatto male. Buche e dislivelli causano infatti seri inconvenienti al transito veicolare e disagi quindi ai cittadini. Con una nota, spiega allora il sindaco Roberto Ammatuna, dell'assessorato ai lavori pubblici inviata proprio ieri, è stata diffidata la società FiberCop S.p.A. a provvedere all'esecuzione dei lavori e al ripristino degli scavi a perfetta regola d'arte, così come previsto peraltro nelle autorizzazioni rilasciate. Il comune continuerà a vigilare e rassegura infine il sindaco sugli interventi che dovranno essere eseguite secondo quindi le regole precise ed in mancanza saranno sospese le autorizzazioni.